Sul primo canale Manga e Cartoni 80 e 90 ho realizzato un video dove parlo della storia di Daitan 3 e del finale ambiguo. Quest'anime è famoso per aver dato alla luce molti interrogativi come ad esempio l'ipotesi che Koros e Don Zauber fossero i suoi genitori di un finale struncato così all'improvviso ma un altro interrogativo molto popolare tra i fan di quest'anime è che Banjo sia anche lui un meganoide perché più volte in alcune scene Banjo ha dimostrato di avere una forza superiore a quella umana come ad esempio quando piega le sbarre scena che troviamo anche nella sigla dell'anime e che troviamo nel primo episodio dove lui spiega mentre strappa le sbarre per salvare Beauty che la mente umana può fare cose incredibili superando qualsiasi ostacolo. Inoltre aggiungo che ci sono anche altre scene in cui lui dimostra di avere una forza fuori dal comune però in tutta sincerità io non credo che lui sia un cyborg. Si è vero nell'anime lui dimostra di avere una forza superiore a quella umana ma anche Lupin il protagonista fa delle cose che nessun umano potrebbe fare. Ragazzi si tratta di una serie animata ma non vi preoccupate non voglio sostenere il mio parere in questo modo ma invece voglio mostrarvi alcuni elementi che abbiamo trovato in alcuni episodi di Die Town 3 e che fanno intuire che si tratta comunque di un essere umano. Ad esempio nell'episodio 9 subisce una scarica elettrica e si vede il suo scheletro oppure nell'episodio 14 quando Banjo scappa nudo sulla neve vediamo le labbra che si colorano di viola in più prende anche il raffreddore. O nell'episodio 19 Banjo è sulla luna mentre i soldati meganoidi respirano tranquillamente Banjo ha bisogno delle bombole d'ossigeno. O anche nell'episodio 20 quando Beauty lancia un'arma che esala gas anti meganoide i meganoidi se ne risentono mentre Banjo rimane immune anche perché durante l'anime sentiremo spesso il messaggio ricorrente per bocca di Banjo che la volontà umana la forza interiore è più forte di qualsiasi altra cosa. Teniamo presente sempre il contesto si tratta comunque di una serie animata dove magari viene un po' amplificato il ruolo del protagonista e inoltre bisogna anche tenere presente il messaggio ricorrente nell'anime per bocca di Banjo che la volontà umana la forza interiore è più forte di qualsiasi altra cosa. Se avete apprezzato questo video non dimenticatevi di iscrivervi per non perdervi il prossimo e di lasciare un like e mi raccomando se vi va di vedere il video completo lo trovate sull'altro canale sotto al video trovate il link. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!